Un nuovo appuntamento con l'informazione su Teletruglia. Buongiorno a tutti voi e ben ritrovati. Subito la cronaca controllo del territorio da parte della Guardia di Finanza San Giovanni Valdarno arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio un trentenne straniero. Vediamo. Trovato con due panetti di cocaina e quasi 2000 euro, probabile provento di spaccio. Arrestato dalla Guardia di Finanza San Giovanni Valdarno ad avvertire che qualcosa non andava durante un controllo dell'auto di un trentenne straniero, i cani antidroga che hanno mostrato nervosismo. A quel punto è scattata la perquisizione domiciliare che ha portato al ritrovamento di 144 grammi di cocaina suddivisa in due panetti di 1930 euro, quale è probabile provento illecito dell'attività di spaccio, un bilancino di precisione nonché cellofan e materiale plastico per il confezionamento. L'uomo è stato arrestato e trasferito alla casa circondariale di Sollicciano per il reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio. L'attività di servizio condotta si inserisce nel più vasto ambito delle iniziative promosse dalla Guardia di Finanza a contrasto del traffico di sostanze stupefacenti. Ancora cronaca vandalinazione a Marciano della Chiana. Farne le spese alcuni dei nuovi box arancioni per il controllo della velocità installati circa due settimane fa dall'amministrazione comunale. Ferma la condanna del consigliere di minoranza Nicola Gentile, possono piacere o meno, ha detto, ma sicuramente contribuiscono a diminuire i pericoli. Cambiamo argomento, inaugurata una nuova rotatoria e qui siamo ancora a San Giovanni Valdarno. Prosegue in Valdarno l'adozione da parte di privati di rotatorie, decoro e manutenzione a carico di aziende e florovivaisti. Un modus operandi già in realtà da molti anni in diversi luoghi in Italia e che circa sette anni fa fu portato per la prima volta in vallata a Montevarchi. Oggi a San Giovanni Valdarno è stata inaugurata, dopo quella nella zona gruccia, la seconda rotatoria in due anni, che sarà gestita da private aziende. Si trova nella zona di Sant'Andrea, lungo la SR 69. Grazie a un progetto che è nato tre anni fa abbiamo approvato un regolamento sulle sponsorizzazioni che ci consente, grazie all'intervento di soggetti privati, di riqualificare le nostre rotatorie. Avevamo come obiettivo di risistemare l'accesso a nord e a sud di San Giovanni, qui siamo nell'accesso a nord, quindi al confine del comune di Figline e Cisa e questa è la rotatoria risistemata, che poi va a riqualificare complessivamente un'area che ha visto in questi anni interventi importanti, alla nostra sinistra la BB e poi alla destra la cicloprista dell'Arno che congiunge i comuni di Figline e di San Giovanni Valdarno. L'altra inaugurata un anno fa invece è a confine tra il comune di San Giovanni Valdarno e il comune di Montevarchi, quindi un altro obiettivo in termini di decoro urbano che è stato realizzato. Lo scopo è quello di mantenere le rotatorie decorose e ben tenute senza gravare sulle casse comunali. È una soddisfazione aver aiutato insieme ad altre aziende del Valdarno l'amministrazione a migliorare il decoro san Giovannese. Lo scopo è il mantenimento minimo indispensabile, abbiamo questo robot che fa il taglio dell'erba. Alla Casa dell'Energia ora dove è iniziato il percorso con il primo incontro, il percorso partecipativo per il progetto Green City Accord per Arezzo più sana, più verde e più pulita. Grazie a Green City Accord cittadini e associazioni partecipando a tavoli tematici potranno dare un contributo concreto per far diventare Arezzo una città amica dell'ambiente. Qui siamo per lavorare su temi importanti e condividere le tematiche e i metodi per approcciare il miglioramento in questi cinque pilastri su cui si basa il Green City Accord che ha a che fare con le città, con i comportamenti nelle città per il miglioramento della qualità di aria, acqua, rumore, biodiversità ed economia circolare. Tutto questo per portare a una riduzione delle emissioni di anidride carbonica in atmosfera entro il 2030. Siamo tra l'altro in un anno molto particolare perché il Green City Accord ha un'origine europea ovviamente e quest'anno ci sono le elezioni europee. Sono invitati a partecipare a questi meeting, a questi tavoli tematici, questo è il primo oggi, poi ci saranno altri tavoli tematici nelle prossime settimane in cui per ogni giornata si parlerà di un tema specifico che riguarda sostanzialmente temi ambientali perché tutto il cappello di questo Green City Accord è rivolto ovviamente all'ambiente urbano, alla città. Sappiamo che circa il 70% della popolazione europea risiede all'interno di grandi città quindi ovviamente è strategico migliorare la qualità della vita che ha un indotto positivo anche sulla qualità psicofisica delle persone che vivono nell'Unione Europea. Questo come sappiamo è un lavoro, un progetto che ormai prende corpo ad Arezzo da otto anni ed ha trasformato un luogo storico diciamo caro a tutta la città che è la ex fonderia Bastanzetti in un luogo che oggi appunto è alimentato da energie rinnovabili. Ed ora a Sansepolcro dove uno spaccato di storia sociale rivive con la mostra sulla Buitoni. Inaugurata nelle sale di Palazzo Alberti a Sansepolcro la mostra Buitoni e il sociale. La mostra voluta dal Kral Buitoni proprio per testimoniare anche come sul versante della sociale e non solo sulla innovazione legata alle paste alimentari, ai biscotti, ai prodotti da forno, la grande realtà economica nata a Sansepolcro nel 1827 fosse all'avanguardia da decenni. Una breve cerimonia di saluto nella sala consigliare di Palazzo delle Laudi e poi il trasferimento per il taglio del nastro nel Palazzo che ospita la mostra Palazzo Alberti lungo il corso cittadino. È chiaro che per noi del borgo, anche se io non ci sono nato, quando ero ragazzino sentivo parlare di La Buitoni e spesso i miei parenti che lavoravano in La Buitoni mi portavano quei sacchetti di nipiol. Quindi siamo tutti cresciuti con il sapore, con l'odore e con la sensazione che questa azienda era proprio il benessere della città. La mostra durerà appunto due mesi, aspettiamo tutti coloro che vogliono rivivere questi ricordi che sono stati sicuramente indelebili per moltissime generazioni di Sansepolcro e quindi vi aspettiamo molto volentieri. La mostra Buitoni e il sociale è aperta tutti i giorni. Domani dalle 17 alle 19 ad Arezzo, in piazza San Michele, flash mob, c'è stato il fuoco a Gaza per proteggere la popolazione civile e vedere finalmente liberi tutti gli ostaggi. Parteciperà anche l'onorevole Laura Boldrini con l'adesione del Partito Democratico, la conferenza delle donne democratiche, Arci, Acli, Oxfam, Ampi, Arezzo, Casentino e Cortona, CGL, Arezzo 2020, donne insieme, Demos, Giovani, Dem e orchestra multietnica. Cambiamo argomento, si chiama Luoghi di Bene ed è uno dei progetti di agricoltura sociale curati da Coldiretti di Arezzo grazie ai bandi della regione toscana. Le aziende agricole di Coldiretti hanno aperto le loro porte per ospitare progetti sociali costruiti assieme ad operatori del settore e ai comuni. Cooperative, ragazzi, persone, aziende agricole che si incontrano in questi progetti che prevedono delle esperienze nelle aziende agricole, esperienze in senso più ampio possibile perché è giusto che ogni persona coinvolta abbia l'occasione di portare avanti i propri talenti, aziende agricole che quindi sono ancora più protagoniste sul territorio, che vogliono ancora più legare le proprie attività alle amministrazioni, ai cittadini, alle persone, anche creando questi percorsi di socialità. Percorsi perché la nostra volontà è quella di portare avanti queste attività con la programmazione sociosanitaria del territorio anche oltre ai bandi della regione toscana. Numerosi gli esempi in Val di Chiana. Nella nostra nuova azienda agricola noi abbiamo messo a disposizione gli spazi che avevamo per fare delle attività rivolte a ragazzi che non possono accedere al mondo del lavoro, hanno bisogno di attività che sono terapeutiche, ma attività comunque di cura. Ragazzi con bisogni speciali. Ragazzi con bisogni speciali. Nella fattispecie noi ci siamo rivolti a ragazzi che già partecipano e frequentano un centro di urno. Gli facciamo fare le attività dell'orto. Abbiamo piantato i pomodori, i peperoni e i ragazzi sono contenti. Sono contenti di stare all'aria aperta, di fare un'attività che prevede dei frutti. Sono contenti di prendersi cura di qualcosa. In chiusura allo sport sarà la terza partita ufficiale in questa stagione, quella contro la Lucchese precedenti a favore dei rossoneri. L'Arezzo ha battuto 12 volte la Lucchese nella storia, ma sono i rossoneri ad avere maggior numero di successi. 18 con 12 pareggi totali. Un derby antico che ci porta indietro di 91 anni. Quello del Porta Elisa sarà la cinquantesima partita nei confronti diretti tra le due formazioni che in questa stagione si sono incontrate anche in Coppa Italia. Con eliminazione Maranto, costretti ad uscire di scena dopo una partita ricca di emozioni. Saranno tre i grandi ex del match. Paolo Giovannini e Paolo Indiani da una parte ed Emiliano Testini dall'altra. Quest'ultimo attualmente l'allenatore in seconda, dove affianca Mr. Gorgone. I due hanno condiviso insieme una esperienza nella Triestina. Tra gli ex del passato non possiamo dimenticare l'imperatore Venturelli, che era il centrale difensivo dell'Arezzo di Somma. Mentre un aretino che ha fatto grande la storia delle Lucchese è stato Adolfo Gambi, che giocò con i rossoneri in Serie A nel dopoguerra. Per la cronaca, l'ultimo successo dell'Arezzo a Lucca risale alla stagione 2017-2018. Con dal canto allenatore il gol partita venne segnato da Buglio, Lucchese di Pietrasanta. Nell'Arezzo il Lucchese doc è Gaddini, che ha l'opportunità di riscattare le occasioni fallite domenica scorsa contro la Juventus. Questo era l'ultimo contributo per il Tg giorno di oggi. Ricordiamo la programmazione per questa sera dopo il Tg delle 20.30. Come sempre le nostre rubriche di approfondimento. Newsline si occuperà del progetto degli orti diffusi a Bibbiena, patrocinato da Coldiretti. 9.10 invece è dedicato al progetto informativo We Are Cortona. La serata proseguirà come ogni giovedì con Caffè Bollente 4.0 condotto da Luigi Alberti alle 23, appuntamento in diretta con in compagnia di Alessio. È tutto per l'informazione, grazie per la vostra attenzione.